Raga 24 ore Qui dentro Ce la farò? Comincia il video nel più per modo possibile Allora oggi siamo all'Ikea Cosa stiamo facendo Alessandro? Stiamo andando a comprare la tua nuova cameretta Proprio quello che stiamo andando a fare Mamma mia se c'è il resto raga con sta macchina Se non vedete questo video mi sa che Andata Ragazzi imparate a rispettare un pochino di più le persone C'è più che altro perché questi ragazzi qui che stavano urlando il mio nome Erano alquanto infantili E nel momento in cui sono andata lì davanti a loro Mi hanno guardato e non sapevano cosa dire Forse in questo momento state anche guardando il video Però nel momento in cui ti ho chiesto Faccio un video a te adesso e ti faccio una parodia Mi hai detto no mi vergogno Ti avrei tanto potuto rispondere Però nel momento in cui ti sei messo a urlare E lanciarmi i pennare lì dall'alto Non ti sei vergognato Cioè capisci che è un'educazione abbastanza sbagliata e scorretta Ce lo dico per voi più che altro Perché poi un domani Un domani quando siete più grandi Oppure se vi succede a voi vedete dopo come reagite Cioè ovviamente non mi ha detto niente Anzi l'ho presa molto sul ridere Ho visto le vostre facce abbastanza imbarazzate Nel momento in cui sono rivolta verso di voi E ho cominciato a parlare con voi Perché effettivamente non sapevate cosa dire Però questo per concludere E dirvi che effettivamente a me non mi toccate minimamente Il mio carissimo fotografo Però del resto dopo ci state perdendo voi Perché non è una cosa concepibile Clicca col pulsante laggiù Cioè ragazzi ditemi a cosa serve Non serve a niente Non fa nemmeno luce guarda La seconda è qua dentro centro No che c'è una luce Che non illumina Però guarda che bello qua Questa è bella come cucina guarda Cioè cucina salone Ma c'è il coso per caricare Cioè guarda che tv Spermente pulita che manco se vede Io scherzo Così fina che è trasparente Guarda che televisione Un hd nuovo modello 2020 Alessandro dove va? Prova col tuo Usch Grazie Ikea Bitch bitch Prova a rimettelo Leva leva Tiè Solo per iphone signori No Ancora una volta Siamo sul prezzo Hai capito la battuta Simpatici quanto te Usch Questa l'ho proprio sentita Tiè guarda qua Ma che interverebbe Pagate accendere Ale vuoi una scena a lume di candela? No ci sono solo candele da mangiare Guarda Come si accende? No può accendere pure le candele Non ho capito Dai come si accende? Tu che sei l'esperto Non so accendere E' rotta E' una candela Questa? Ah questo è vero Ma guarda ho detto Questo è per Giorgio Qui ci sono per Mamma E quello che ho? Aspetta Papa Ma ma perché? Cioè Cioè Questa No è vero Guardate Perché? Cosa stai facendo? Non casca Mi sape che mi faccio se casca? Qua ci entrerò? No No Palle Sia devo fare il video Mamma mia Vai No È ricordo Questo Facciamo la magia Vai fai la magia Oh mio Dio Scompenso Questo che è pazzia Chiamatemi malaga Dentro l'armadio 24 ore 24 ore Quello che non ti nota nessuno Eh attenzione eh Attenzione signori Pronti? Ma Ma dov'è? Dov'è andata? A casa? Questa è magia vera signori eh Questa è magia vera Ci facciamo un pezzo alla sbarra Eh Perché c'è la sbarra in camera? Dovevo scomparire ancora? No 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 Dai Se no ci possono scomparire a noi in manette tra poco Io vado Addio Troppo comodo però Ma Alessandro è così che ci si comparte in un posto pubblico? In un lobo I pennarelli ti devo lanciare scusa Ok I pennarelli La bottiglia di vetro Te ne è presa Maggia La selva Ti giuro la signora ha fatto Poverina la capisco Jack Dobbiamo trovare il tesoro sulla mappa Come no? Come no? Guarda Mi pari tutti i nodi Qua c'è tutta una mappetta Mmm Adatto proprio al tuo collo Salve Allora io vorrei Quel vino lì Sì sono 500 euro a bottiglia Ok Mi posso vedere il vino? Sì sì Prima vorrei vedere il banco Prego Mmm Dove lasciare da casa Torno subito È un attimo Sì sì Nooo Non è vero Guarda Non stai sdraiata Che dormi con mezza schiena sul cuscino E tu arrivi là Penso io dove arrivo Ce ne signora Magia Guarda Guarda come fa pesi Prova a sollevarlo Hai Quelli dovrebbero essere 3 kg Eccoli E che non lo sapevo Questa posso entrare qua? L'hanno trovata Nooo L'hanno trovata Io volevo passare 24 ore all'Ikea Come glielo spiego al tuo mare? Come li faccio? Un milione di visual Niente armatio Oggi quale mezza? Quale di bravi? Non lo so Credo quella Questa qua Seriamente Chi è quel villano che mi ha incollato le scarpe? L'altro E non dico che scappi Ti vedo Inseguiamolo Eccolo La nostra vittima Ragazzi Adessandro mi odia Quindi questa è la sacca Per te Quando sarei morta Esattamente Ah ok Che bontà Quanti diamanti Io metterei i gioielli Che non hai Saranno veri? Si o no? In mezzo alla savana Oh mio dio Un essere Quasi umano Io so 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 Lo faccio un 360 Vai Oh madre Dio L'ho presa L'ho presa Piccola spavoletta Non è abbastanza grande No Non va bene Non c'erano scoperti Quanti ore sono passate 20 24 Ok E' finito il video Te la compro papà Ho detto dai non mi ha visto E' andata Raga 24 ore Qui dentro Ce la farò? No Perché c'è C'è tarta qua dietro Ragazzi questa è una missione Ush Dove sono finita? Un mondo nuovo Non mi piace Devo cambiare mondo Mi chiedo di ciabacqua Nella prossima puntata Faremo 24 ore Aprendo porte Perché sei qui? Che ci fai? Questo va bene secondo te? Troppo piccolo Troppo piccolo Questo? Cosa so io quando mi sveglio? Quando sai che dobbiamo andare con due a due? Ammeno l'ora Non è incusato Facciamo un ferro Vroom 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 Wow Che curva Si vede proprio che sei patentato Sei un esperto di guida Ma vedi c'è sta Il canale del Mi dispiace troppo Ma avevo preso una cosa da scappare qua davanti Sono andata in avanti alle salate L'indietro Mi sono sfondata la spalla Mamma Credimi sulla parola Ti prego Alessandro mi ha rotto la spalla Anche se non l'ho ripresa Lo dovevo ripresa Mh 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 Quindi le prendi Come no Andiamo a prendere quello? Perché è andata eh Io ripeto Che subito non esce Qualcuno vedrà ste clip Prendiamo questo? No davvero Dai veramente Questa cosa le prendo? Allora prendiamo quello Chi è che si fa male? Salta su Ah No Ok voilà voilà Guarda ti sta scendo male Non è colpa mia Non ci fanno queste cose Mi lanciamo le guida? Che peccato Non mi si fai cascare Ecco E' pure cascato Moriva l'è là Schifoso Batte la pelle Che hai comprato? Ahah Eh? Però lo posso Non mi piace più Non ti piace? Sarta Mi ha comprato sto Io non lo volevo Lui l'ha guardato Me l'ha fatto provare Mi ha detto Ok lo prendo io Io guarda che non lo pago Lui Tranquilla lo compro io E me l'ha comprato Mi ho proprio obbligato a metterlo Sono i commenti Vedete come sta Brutto Mi hai concetto di michele andradi raga Sono andato sempre dritto Come un treno Potevo dire addio Le notte Rutto Sempre avuto troppa fretta Almeno tu Rimani fuori Chi si è dimenticato di fare l'outro di questo video? Sono passati esattamente tre giorni Da quando ho registrato il video dell'IKEA E oggi sono qui a fare l'outro di Santa Madre Ogni volta mi dimentico Perché siamo andati a Porte di Roma Siamo accorti che c'era anche il concetto di Michele Berevi Quindi l'abbiamo guardato Poi sono tornata a casa E sono addormentata E in questi giorni sono state abbastanza in giro Quindi Detto questo Io vi ricordo qui sotto nei commenti Di commentare Vivendo altri video 24 ore da realizzare E in più Seguitemi tutti i miei social network Specialmente Instagram Che è il mio social preferito Il mio social principale Se vi c'è l'official Nick qua Link in descrizione Mi raccomando Seguitemi E mi raccomando Mi raccomando Seguitemi anche sui altri social network Link è sempre qui sotto in descrizione Niente Vi mando un kiss E noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao